Buona giornata a tutte e a tutti. Il giorno 24, prima giornata della nostra astensione nazionale, vogliamo vederci tutti a Roma in Piazza Cavour, quella piazza che ci ha visto protagonisti di una delle iniziative più straordinarie dell'Unione delle Camere Penali e di tutti noi insieme la maratona oratoria contro la legge, la riforma della prescrizione Bonafede. La pandemia ci ha paralizzati per un anno e mezzo, mettendoci nella impossibilità di stare insieme fisicamente, mettendoci nella necessità di dover rinunziare ad importantissime scadenze della nostra iniziativa politica. Non erano ancora disponibili sale dove potersi riunire per la nostra manifestazione, perché a Roma saranno disponibili solo dal primo luglio, dunque abbiamo detto torniamo in piazza. Io mi auguro che sappiate tutti cogliere il senso anche simbolico e politico di ritornare in quella piazza, di ritornare tutti insieme, di rivederci. Farà caldo, ci metteremo dei cappellini se riusciamo a predisporli con lo slogan della manifestazione, ci berremo un po' di acqua fresca, ma staremo insieme per dare il segnale forte ancora una volta della presenza dei penalisti italiani, delle nostre idee, delle nostre posizioni in un momento molto grave. Quello che è accaduto a Verbania e forse ancora di più, quello che sta accadendo a Milano dimostra in concreto i danni incommensurabili, non solo per la giurisdizione, ma per la società, per tutti i cittadini, di una magistratura non separata, di un giudice condizionato in modo inconcepibile dagli uffici di procura. Un giudice che viene additato all'indice se osa essere indipendente. Questo noi dobbiamo capire, che è un momento straordinariamente importante nel quale dobbiamo saper mandare messaggi molto chiari. I penalisti italiani sono la voce dei cittadini che hanno idee chiare su come uscire da questa terribile crisi della magistratura e delle istituzioni. Vi aspetto numerosi a Piazza Cavour, giovedì 24 alle 10 del mattino, per riabbracciarci, per aprire un microfono, per sentirvi parlare, per sentire gli interventi della politica, per stare insieme. Un abbraccio affettuoso a tutti voi.